Ben ritrovati a tutti cari amici, oggi siamo belli, veloci, è il bel scopo da fare. Allora, l'Olimpia Milano fa il bis in Eurolega, accendono la seconda vittoria di fila battendo Leon Villarboan tra le mura amiche del Mediolano, un forum a sacco per 87 a 73 con i parziali 20-17, 25-23, 16-14, 26-19 i top 3 del realizzatore Shields e Rodriguez per Milano e Nova per il Leone. Quindi che dire, che Milano parte bene in Eurolega però è attesa la settimana prossima da due impegni di fila in Eurolega uno in trasferta, uno in casa, ricordando che nella prima partita aveva vinto all'Overtime contro il Bayern Monaco in terra bavarese per 81-79 quindi prossima sfida tra quattro giorni in casa dell'Olimpia Cos che ha una vinta e una persa. Praticamente ha vinto ieri in casa del Bayern di Necors per 78-71 quindi ribadiamo l'Olimpia Milano uscendo la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo in casa e Leon Villarboan 86-73 Grazie a tutti e alla prossima, ciao!